Salve a tutti, buonasera, io oggi sentivo forte la necessità di condividere con voi questo pensiero una riflessione più che altro che mi sta arrivando sia perché comunque sono passati due anni importanti stiamo anche attraversando un altro momento importante ma anche perché sono in contatto con molti di voi che mi dicono spesso ah basta, io mi chiudo, me ne vado, rinuncio, mi ritiro, ti ritiri tu, come la barzelletta perché fa tutto schifo, questo mondo non mi merita, mi ritirerò nelle mie stanze ho letto queste cose molto anche scenografiche e anche che sfiorano a tratti il cabaret per quanto mi riguarda perché appunto c'è questa fortissima sfiducia che è comprensibile nei confronti del sistema, delle strutture eccetera eccetera ora senza entrare tanto in polemica ma io volevo dirvi a tutti quelli che si sono diciamo tra virgolette svegliati o accorti di essere comunque in uno schema, in una griglia totalmente falsata e artificiale beh buongiorno, cioè benvenga che ve ne siate accorti solo ora però che vogliamo fare? cioè è da una vita che lo sappiamo eppure nonostante tutto ci sono tantissime anime che anzi fanno di tutto e che dedicano anche la propria vita ad aiutare altri fratelli e sorelle che sono sul cammino per svegliarsi non è che adesso io improvvisamente mi accorgo che lo Stato fa schifo che le istituzioni sanitarie sono corrotte che siamo tutti preda di giochini, di oligarchi, alieni eccetera eccetera ci ritiriamo, scaviamo una buca e andiamo a vivere in un bunker è una possibilità, è una soluzione però credo che si possa fare anche dell'altro lo sento profondamente, è parte della missione della mia vita che vuol dire? Che quando non si è stati diciamo educati a percepire la realtà o le realtà in maniera del tutto multiforme e anche come dire, anche con tante possibili interpretazioni molto spesso poi si prende una batosta ah basta, chiudo, chiudo, me ne vado non funziona così fondamentalmente perché quello che succede è una delle infinite possibilità ma soprattutto anche quello che succederà dipende anche da noi e da come noi focalizziamo la nostra energia io dico sempre ai miei allievi quando parliamo di mantra, eccetera eccetera di suoni, ma soprattutto di mantra che il mantra è come appunto canalizzare o comunque girare la manovella della nostra radio interna, no? quindi a seconda di dove noi giriamo la manovella e puntiamo le nostre antenne riceviamo queste o quelle frequenze e quindi anche noi potremo canalizzare questi o quei messaggi che vuol dire questo? vuol dire che non è che visto che ci siamo accorti improvvisamente che è tutto finto, che è tutto costruito che è tutto in mano a delle industrie anche a mio avviso ridicole dell'intrattenimento la stessa parola intrattenimento vuol dire trattenere dentro in questo caso dentro una bolla assolutamente artificializzata e diciamo fittizia di angoscia di emozioni negative di paura per mantenere sempre questa cappa di pressione e quant'altro che vuol dire però? che non è che io visto che ho scoperto questo adesso nel 2020 al 2022 adesso io devo chiudere tutto non esiste più niente fa tutto schifo dobbiamo stare così e dobbiamo semplicemente chiuderci in un buco e aspettare che tutto passi molti di voi magari che stanno ascoltando la pensano così, no? perché questa è una cosa umana, no? io non la vedo così anche perché contestualmente a tutto questo schifo che sta emergendo più che altro che c'è sempre stato ragazzi io volevo dirvi c'è sempre stato c'è sempre stato buongiorno su più piani su più livelli però adesso magari è stato così eclatante che molti di voi se ne sono accorti anche in maniera improvvisa va bene ok che ci vogliamo fare? lo vogliamo usare come possibilità? vogliamo cavalcare quest'onda per risvegliare? o vogliamo mandare tutto al magero ci buttiamo da una scogliera e diciamo che tutto questo mondo non mi merita addio mondo crudele e ce ne andiamo? no io credo che non dobbiamo chiudere tutto perché così come ci sono tutti questi messaggi osceni finti, rimaneggiati assolutamente finti costruitissimi e che portano sempre che mirano sempre a portarci in una dimensione di paura di ristrettezza di miseria di terrore di angoscia moriremo tutti morirete tutti ci estingueremo dai 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 al mondo noi siamo degni di non essere degni che non dobbiamo provare piacere che non dobbiamo essere felici che non dobbiamo godere che dobbiamo avere sempre il terrore che chissà che cosa possa succedere arriva Godzilla ci rapisce eccetera tutte queste minchiate fenomenali megagalattiche che vertono sull'istillazione della paura della morte della malattia vabbè se noi cavalcassimo invece questo periodo ci renderete conto che ci sono tantissime alte frequenze altre frequenze anzi invece che in questo periodo se si fa un minimo proprio un minimino succede di tutto quindi vi invito a canalizzare la vostra manopola interiore su altre frequenze vi invito a anche frequentare a livello fisico umano animico persone barra anime affine a voi così che vi possiate accorgere che vi potrete accorgere che ci sono ci sono dei momenti in cui potete aprire i vostri famosi ciacri e in cui potete stare anche alla natura nella natura stare con gli animali e potete anche ricevere invece qualche sorta di frequenze qualche sorta di energia che non è per niente brutta non è per niente negativa non è per niente distruttiva non è per niente volta all'abbassamento quindi bisogna imparare a filtrare bisogna imparare il discernimento bisogna imparare a discriminare in maniera lucida e razionale ma fintanto che noi ci faremo trascinare da questi messaggi veramente abominevoli da cui veniamo bombardati H24 che fateci caso e mirano sempre a fare in modo che noi si venga tirati giù a livello emotivo sono messaggi anche molto che vertono sulla nostra parte femminile quindi si fanno vedere bambini si fanno vedere sangue donne colpite animali molto spesso tutto questo è una manipolazione che è mirata a diciamo suggestionarci in maniera negativa e a farci credere determinate cose scuotetevi spegnete tutto cercate di farvi un'opinione anche basata su dati lucidi irrazionali alle volte il maschile serve anche questo e cercate anche di ancorarvi ad una realtà che vi posso assicurare non fa così schifo come ci stanno dicendo c'è ben altro c'è altro da sentire e ben altre realtà e frequenze su cui canalizzarvi ma la scelta è solo vostra impariamo a filtrare un grande braccio ciao ciao